eccoci buongiorno buongiorno a tutti io sono come al solito il dottor max oggi è sabato qui è una bella giornata ricordo che vi parlo della tanzania dove mi sono spostato ormai tre anni fa da new york dopo ho vissuto per 20 anni allora mi sono ritirato qua e sta ho approfittato quello che quello che mi sembra in ambito bancario si chiama uno scivolo no uno scivolo approfittano i bancari di uno scivolo e vanno in pensione anticipata e quindi grazie al covid io mi sono fatto una bella scivolata e sono finito in tanzania sono molto contento di essere qua oggi è sabato e si parla di consulenza oro va bene allora io oggi vi ho preparato un paio di articoli credo abbastanza interessanti e nel frattempo vi ho anche caricato delle foto perché siamo limitati un attimino in questi interventi su telegram perché non c'è il supporto visivo no però io qualche volta vi ho caricato apposta delle foto se magari quando intervengo se le volete andare a vedere così magari capite un pochino meglio allora io leggo e poi dopo apriamo diciamo la conversazione con domande e risposte vi parla adesso di un articolo che è stato pubblicato da bloomberg 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 e per chi non lo sa è una grande testata di economia e finanza americana è probabilmente se non la più autorevole una delle più autorevoli è chiaro che tutte queste notizie che vengono insomma poste in rete ora online vanno sempre presi un po così ecco però quest'articolo mi sembrava interessante anche perché parla di un qualcosa che sta avvenendo in africa dice legislatori della nigeria vogliono che la banca centrale combatta l'inflazione con l'oro quindi è l'articolo del 9 di luglio quindi recentissimo i legislatori nigeriani stanno proponendo un drammatico aumento del potere della banca centrale nell'utilizzare oro per sostenere le riserve della nazione a difesa dell'iponia un progetto di legge all'esame del senato propone una serie di politiche che conferirebbero alla banca il ruolo di beneficiario automatico di tutto l'oro prodotto nel paese insieme all'obiettivo di rendere il metallo prezioso almeno il 30 per cento delle riserve della nigeria alla fine di novembre l'oro rappresentava solo il 4 quindi lo scorso anno il 4 per cento delle riserve nazionali che attualmente ammontano 34.8 miliardi di dollari la nazione più popolosa dell'africa sta combattendo l'inflazione che ai massimi da oltre 28 anni a seguito delle riforme economiche che hanno parzialmente revocato i sussidi petroliferi e rimosso l'ancoraggio della valuta rispetto al dollaro con la naira che si chiami così la moneta nigeriana che è scesa di circa il 70 per cento rispetto al dollaro negli ultimi 12 mesi quindi sono in piena inflazione i legislatori propongono la creazione di un'autorità per la riserva dell'oro vogliono anche che il governatore della banca centrale presieda un comitato di gestione delle riserve a ore la cui composizione e funzioni rispecchino da vicino il comitato di politica monetaria della banca dice Bloomberg la banca centrale della nigeria non ha risposto immediatamente alle richieste della proposta l'estrazione dell'oro in nigeria è in gran parte informale e fornisce solo un piccolo contributo all'economia qui informale è una traduzione sbagliata comunque diciamo va all'estero perché sono tutti ovviamente appalti che hanno dato alle multinazionali straniere il disegno di legge che fa seguito ad un acquisto di oro della banca centrale del 19 potrebbe diventare legge portando l'industria dell'oro a garanzia della moneta quindi ci sarebbe un certo senso anche in questo senso un ritorno al gold standard è scritto tra virgolette perché poi non lo possono menzionare questa parola da quando è entrata in carica nel maggio del 23 il presidente bola tinibu ha cercato di trasformare l'industria minerale della nigeria cercando di attrarre investitori soprattutto per i depositi di litio a basso grado nella regione centrale del paese la proposta è di un membro dell'opposizione e dovrà essere discusso prima di poter avanzare sulla scrivania del presidente il quale darà il suo consenso almeno non è chiaro se il presidente favorirà questo piano o preferirà uno che provenga dalle sue stesse fila di governo perché questo è stato presentato da un membro dell'opposizione l'articolo prosegue dicendo la nazione dipende fortemente dall'industria del petrolio e del gas per i guadagni di valuta in valuta estra ma atti di vandalismo furti e calo degli investimenti nel settore hanno ostacolato la produzione portando i governi successivi a perseguire una diversificazione dell'economia il settore minerario e estrattivo dell'economia è cresciuto il 6.3 per cento nel primo trimestre rispetto all'anno precedente secondo i dati diffusi dall'ufficio nazionale di statistica e gli analisti vedono potenziare il fatto che la banca centrale vedono un potenziamento del fatto che la banca centrale detenga più oro tra virgolette c'è scritto crediamo che il continuo accumulo di oro nel lungo termine rafforzerà i portafogli di riserve valutari della nigeria incidendo positivamente sull'inflazione e riducendo la volatilità dei cambi questo è stato affermato dagli analisti cardinal stone research all'agos evidentemente corrispondenti di bromberg questo è il primo articolo che devo leggere buongiorno duilio buongiorno vinita avete domande a riguardo ecco questo articoletto ve l'ho letto perché significativo perché accade in africa e le notizie sull'africa ne abbiamo sempre molto poche e purtroppo spesso e volentieri come anche gran parte delle altre notizie non sono tante volte veritieri ora poi ve ne parlerò di una va bene che sta circolando in rete e che purtroppo secondo me non è corretta una bufala anzi ve la dico subito credo di averla anche postata è la notizia relativa è la notizia relativa all'ipotetico l'ipotetica crisi bancaria in cina avete sentito forse parlare no ora è venuta fuori la notizia sono qui davanti a me che una banca cinese ha annunciato una perdita del 30 per cento e questo qui che sono queste sono articoli io ve lo dico che già forse adesso sono fatti creati con l'intelligenza artificiale perché questi qui sono articoli che poi vengono messi questo che è stato messo su vecchio il vecchio twitter anche poi sulla ex se volete un giorno farò un intervento sui significati sui veri significati esoterici iniziatici della ex come lettera da o da un tizio che non si individua con nome e cognome chiamato sina quindi su questo articolo che potrebbe scritto da uno che non si sa chi sia si è scritto ventunesimo capital sina se volete volete andare anche a vedere no e lui scrive tutta una serie di cose che non si sa nemmeno della fonte non si sa nemmeno da dove vengono ora dovete capire una cosa e qui approfitto anche per farvi ragionare no su certi aspetti prima di leggere certe notizie o anche prima di diffondere dovremo essere tutti molto più attenti e se non si ha certezza assoluta che la notizia sia sicuramente vera non bisognerebbe veicolarla perché si fa soltanto della disinformazione va bene io sono tanti anni che dico questa cosa qui perché ormai con vent'anni di esperienza di esperienza di lavoro o di comunicazione soprattutto io mi rendo subito conto no vai subito subito andare a vedere la fonte non è che se la fonte è bloomberg e la notizia è sicuramente vera ve l'ho detto prima non necessariamente naturalmente c'è più probabilità che non sia una completa bufala questo è evidente no chiaro allora questo un po di logica basta in sintesi fare un'analisi di come è costruito e strutturato il sistema economico finanziario bancario in Cina in Cina non c'è una libertà tale per cui uno va alla banca centrale cinese e dice guarda voglio aprire la mia banca privata me la fai aprire anche se può succedere che molte banche apparentemente siano formalmente indipendenti in realtà non possono perché sono sotto un rigido rigidissimo controllo della banca centrale cinese c'è libertà in Cina una banca non può fare quello che gli pare di fare non lo può fare anche perché c'è un doppio un doppio legame un doppio controllo da parte da parte di chi da parte di chi Diego te la sai questa risposta non intervenire forse anche lui chi è che è la banca delle banche che controlla che ci piaccia che non ci piaccia tutti tutte le banche del mondo bravo bravo certo felice il governatore della banca centrale siede assieme a tutti gli altri colleghi ogni due mesi va a basilea dove c'è la sede del bis quindi loro queste cose che lo sanno benissimo sono tutti d'accordo le politiche a quei livelli le decidono tutte insieme quindi sono queste fanno parte di queste sovrastrutture che noi tante volte perdiamo di vista perché si rimane a livello politico quindi tutto quello che anche tanti colleghi tante persone dicono lo dicono a livello politico e poi ma la maggior parte di loro o fanno finta o non sanno niente c'è un altro tra virgolette autorevole giornalista non so neanche se sono giornalista no voglio dire il nome voglio dire il nome perché non voglio dire il nome italiano che fa questi reportage dall'america dicendo delle cose ha fatto un intervento recentemente in cui ha definito la federa riserva una banca privata scusate una banca pubblica la banca governativa ma come fai a a a a c'è io bisogna rendersi conto tra è sempre molto attento e questo richiede un minimo di conoscenza diciamo basilare no sulle cose fondamentali per rendersi conto da chi vi intrattiene da chi vi dice delle cose senza mi fermo qua avete per caso dei commenti o delle cose da dirmi in base a quella che ho appena letto detto no andiamo avanti abbiate non abbiate timori e poi insomma anche solo dice una cosa prego per dimmi dimmi dottor max il giornalista a cui ti riferisco come inviato dagli stati uniti è quello che è sempre il il sorrisino beffardo ironico sì è lui e ha capito capito grazie lui è stato finanziato da da come si chiama quella chiesa lì del ora poi ve lo dico no ma chiesa evangelica è una chiesa famosissima evangelica americana dimmi venita scusa max devi dirci chi è perché a questo punto lo vogliamo sapere felice di lo te così almeno io lo dici te porto il cognome mazzoni mi sembra confermo ma non l'ho detto io eh non so non mi ricordo il nome però mazzoni mazzoni capito venita siamo maurizio maurizio mazzoni sì maurizio si chiami maurizio sì non mi ricordo ora è chiaro ho capito chi è allora uno che fa interventi così che tv vi dice dei trend che vi viene analizza anche ultimamente uscito con articolo con una cosa che ho detto forse dieci anni fa mi viene da ridermi cioè e non e non dice e fa una dichiarazione falsa in questa maniera qui io mi chiedo non lo so eh ma è in buona fede o non lo sa cioè è in cattiva fede o non lo sa a me perché si è molto molto eh a dire il vero mi sembrava molto serio per cui non lo so poi mi sbaglio magari ma noi non siamo mica non siamo qua a dare giudizi eh certo giudizio poi rimane una cosa vostra io vi faccio risposta rimango un po spiazzata di questa cosa comunque va bene ok quindi la domanda è uno che calveggia bitcoin felice scusami dimmi lui oltretutto è uno che calveggia bitcoin va bene va bene è questo che io mi chiedo quando sento questo scelta ma queste persone qui sono in cattiva fede oppure non lo sa perché in tutte e due le maniere la cosa è gravissima no che uno che fa un intervento così non può non sapere che la banca federale e la federale riserva è una banca privata è stato pubblicato ormai su centinaia di libri non è possibile uno che è che 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 vuole dire che decide di metterci la faccia non conosce non conosca queste cose allora dovrebbe stare zitta e non fare nulla usate mi permetto di dire scusate che bitcoin è uno strumento di libertà così come loro quindi è ostracizzato e vilipeso dal sistema io credo che prima di esprimere dei giudizi su bitcoin bisognerebbe studiarlo molto bene io l'ho fatta questa cosa qui venita e non do giudizi io ti dico quello che ho scoperto io ci sono due video a disposizione sul mio canale di tubo youtube in cui io mi sono permesso di fare un'analisi da un punto di vista diverso senza dare giudizi valutato soltanto le informazioni che ho trovato sul in rete in rete pubblicata in rete ormai tanti anni fa poi ognuno fa la scelta infatti proprio per questo proprio perché so e credo di aver capito chi c'è dietro veramente al bitcoin io non ne parlo né male né bene e quando qualcuno mi dice ma secondo te quanto dovrei investire in bitcoin qualcuno mi fa la domanda non c'è nessuno dietro al bitcoin è questo che fa paura finita per cortesia finita per cortesia io al massimo rispetto di tutto e tutti fammi finire dico che uno fino a un 10 per cento per il concetto della diversificazione del patrimonio può sicuramente investirli ma non mi venire a dire che non c'è nessuno è per piacere perché allora significa che devi un attimino ritornare indietro andare a vedere i video fare le tue considerazioni io sono poi più ben contento di parlarne privatamente ma non per aprire una discussione con te ci vorrebbe altro per capire per capire a mente aperta perché il mio sito si chiama mente aperta punto nette proprio perché qui non si danno giudizio alla fin fine alla fin fine non vale proprio voglio capire dove trovare questi video perché non mi sembra di averli mai visti sono tuoi fatti da te certamente ok quindi li trovo sul tuo canale youtube o su il mio canale di il mio canale di youtube deve essere ancora lì c'erano se hai difficoltà me lo dici e ti do una mano va bene grazie altre domande o commenti adesso vi leggo un'altra cosa curiosa che io ho sulla quale sto lavorando come sapete l'azienda tedesca recentemente ha inserito un nuovo diciamo software applicato al rapporto si dice la razio non il razio scusate mi hanno guardato guardato su tre cani perché anche lui non sapevo che si diceva pertanto dopo 20 anni d'america anche a me ci sono delle cose la trilogia l'ho scritta in italiano per imparare l'italiano perché dopo venti anni che la parli la lingua ma non la grammatica non è che la segui che mi sono accorto e mi stavo dimenticando tutto tutto con molta grammatica quindi il rapporto tra ore e argento no che in cinese in cinese si chiama xang xau quindi xang vuol dire oro va bene io questo non lo sapevo facendo una chiacchierata scambiandoci dei messaggi con alessio che fa parte del gruppo di consulenza oro mi ha lui mi ha mandato della documentazione lui è molto dentro al discorso del trading e allora poi per conto mio mi sono fatto un po' di ricerche ulteriori e adesso vi leggo delle cose va bene allora questo è stato preso in parte dal sito investing.com ricordatevi sempre che è molto importante citare le fonti di quello che si legge e si dice perché se no si fa solo l'intrattenimento proprio di gossip lo definire che dobbiamo tutti imparare che c'è una grossa differenza fra chi fa un intervento comunque avendo lavorato su quello che dice no quindi con delle fonti citando delle fonti da chi si mette lì parla 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 e non cita mai niente benissimo allora il prezzo spot quindi la razza rappresenta il tasso corrente per i contratti di oro e argento come stabilito dal commodities exchange comunemente chiamato comex una divisione del new york mercantile exchange va bene che ha sede a new york il rapporto raggente rappresenta il numero di once onze necessarie per acquistare un oncio d'oro calcolato dividendo il prezzo di un oncio d'oro per il prezzo di un onterrogetto quindi che siano oncio che siano kg la stessa cosa questo rapporto tende a salire durante periodi di crisi perturbazioni e instabilità dei mercati e raggiunge i picchi generalmente durante periodi di recessione inoltre il rapporto è ovviamente quindi il prezzo prezzo che è deciso nella city di londra due volte al giorno come sappiamo bene è in relazione a che cosa anche alla disponibilità in natura perché è chiaro che se l'oro per dire disponibile in 10 tonnellate e l'argento è disponibile in 1900 tonnellate è evidente che il prezzo dell'oro andrà su rispetto a quello dell'argento perché ce n'è di più questa è una regola di mercato no i geologi oggi ritengono che l'argento sia circa 19 volte più abbondante dell'oro sulla costa terrestre ma la produzione delle moderne miniere d'oro in tutto il mondo è solo otto volte maggiore a quella dell'oro estratto ogni anno questa ricavata questa notizia mi sembra abbastanza corretta da google va bene adesso vi leggo un articolo che ho preso proprio da questo sito che vi dicevo che dice previsioni si chiama fix la piattaforma il sito dice previsioni e notizie sull'oro l'oro rimane sulla buona strada per chiudere la settimana sopra i 2400 dollari sempre all'oncia ricordiamoci io nei miei interventi non vi dico mai prezzo all'oncia perché prezzo all'oncia non è prezzo a grammo si fa solo confusione e basta vi dico in linea di massima il prezzo al chilo è riferimento al prezzo al chilo questo prezzo ovviamente può essere in euro o in dollari siccome la maggior parte delle informazioni sono in dollari e qui si usa dollari in tutto il mondo usa dollari io in linea di massima vi do il prezzo in dollari e vi cito anche la fonte dove sarebbe bene chi ha investito in oro o lo deve fare che cominciasse anche andare a vedere per bene dove si trovano queste informazioni io per esempio uso una piattaforma che si chiama goldprice.org.org dove qui vi fanno vedere i trend della giornata dell'oro dell'argento tutte le proiezioni delle performance dell'oro a 30 giorni a 6 mesi a 5 anni a 20 anni con tutte le varie percentuali e così uno si fa un'idea un po' più chiara dei trend perché quando si fa un investimento bisogna sempre andare a vedere il trend di quello in cui si vuole investire può essere anche un'azione di borsa c'è un trend sempre nel contesto generale e nei trend poi diciamo di tutto il mercato perché uno mi può dire sì sì ma io oggi voglio investire ho sempre investito in immobile e veste in immobile ma veste in immobile ma è una diversificazione comprare tutto in immobile no quindi non bisogna mai perdere di vista la diversificazione e in questo senso è venita in parte le monete digitali sono benvenute vanno bene come vedi non è che perché secondo l'impostazione mia di base in un momento di grande volitilità e Colin Powell presidente della Federal Reserve due giorni dopo ce l'ha due giorni fa scusate ce l'ha di nuovo ricordato che stiamo andando incontro ad un momento di grande volitilità e te ne dice lui che ci saranno grossi problemi perché volitilità significa uguale problemi economici finanziari di moneta di qualsiasi tendenza uno si deve dire ma io ho sempre investito in immobili ma in azioni ma in questo momento è logico fare una cosa di questo tipo la risposta è no perché non c'è comunque sufficiente diversificazione quindi a buon senso in questo momento uno dovrebbe guardare all'oro perché l'oro è lì da più di 6 mila anni come vi ho spiegato io nella storia dell'oro citando Ferdinand Lips professori universitari ricercatori eccetera che ci hanno detto la verità va bene io credo e quindi sono veritieri nelle tesi che sostengono abbandonando nel 71 con Nixon una certa relazione tra ore e argento scusate tra ore e la creazione della moneta naturalmente questo chiamava gold standard naturalmente poi siamo andati verso una matrix completamente fittizia digitale in cui il debito pubblico di fatto è un numero in un computer che potrebbe essere cancellato in un secondo o potrebbe essere cancellato come ci ha spiegato Richard Weber in quello che lui ha chiamato il quantity easing primo poi c'è stato creato quantity easing secondo non ha niente a che fare e le banche centrali potrebbero cancellare il debito pubblico con un click ma non lo fanno ecco benissimo quindi allora vediamo un po ritorniamo a quello che vi stavo dicendo vi ho parlato del discorso dell'oro e adesso termino la lettura di quello che vi dicevo va bene allora vi ho detto l'oro rimane sulla buona strada per chiudere la settimana sopra i 2400 dollari all'onto l'articolo prosegue dicendo dopo una correzione a ribasso di breve durata all'inizio della sessione americana parla di queste settimane l'oro riacquista terreno e sembra chiudere la settimana sopra i 2400 dollari questo lo potete confrontare e vedere no subito come vi ho detto io da quel sito la persistente pressione di vendita che circonda il dollaro uso in vista della fine della settimana aiuta la coppia quella che vi dicevo prima la xau quindi torniamo a quello che si diceva slash quindi slash usd la xau quindi in questo caso sarebbe l'argento è spalla un attimo dell'argento a mantenere la sua posizione l'oro si sta muovendo all'interno di on range avvicinandosi al suo massimo storico il raggiunto il 20 maggio di quest'anno quando è arrivata alle 2451 dollari per esattezza e come allora come era possibile l'oro potrebbe ora trovarsi in un consolidamento una pausa all'interno di un trend rialzista più alto in termini tendenza a breve termine l'oro sembra essere in crescita poiché si stende verso l'alto all'interno dell'intervallo che si è aperto che è iniziato ad aprile la tendenza è stata di avere un minimo di 2280 dollari un tetto di 2450 dopo la rottura la rottura vuol dire quando va oltre no sopra il picco del 7 giugno di benedì scorso il metallo prezioso ha ricevuto una conferma rialzista sbloccando il prossimo sbloccandosi e andando oltre l'obiettivo storico del 2450 diciamo con la stessa cosa tanti articoli tante volte sono fatti in questa maniera ti ripeto nel lungo periodo e non lo volevo tagliare nel lungo termine l'oro rimane in un trend rialzista suggerendo che la profittabilità sono favorevoli ad un'eventuale rottura al rialzo del range una rottura decisiva sopra il massimo di 2450 fino addirittura a 2555 che sarebbe un nuovo record è un valore calcolato estrapolando il rapporto di fibonacci di 0,618 dell'altezza del range più alto vedete questa è finanza questa è la terminologia della finanza per cui uno legge 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 i termini tecnici non capisce niente al volo proprio al volo così siccome mi sono mi sono chiesto buongiorno gabriele e buongiorno luca mi sono chiesto ma che c'entra fibonacci io mi ricordavo che era uno virgola che cosa il numero a sezione ora di fibonacci ma che c'entra lo 0 quindi sono andato a ricercare e ho trovato al volo così e vi dico questa cosa non ci ho lavorato più di tanto che la dice la parte essenziale è che della frequenza di fibonacci no che è un numero lo sapete strutturata una certa maniera che poi costituisce diciamo il la la come si dice la le chiocciole no struttura della chiocciola e la rappresentazione fibonacci non ha ci ha probabilmente creato un suo numero studiando la natura in questo caso dice il quoziente tra ciascuna coppia successiva di numeri cioè della sequenza fibonacci si avvicina ad 1,618 e il suo inverso è 0,618 io ve la dico come l'ho trovata però non sono in grado di dirvi se questi numeri sono veritieri o meno ecco vediamo un pochino l'intervento per oggi letto gli articoli letto finiscono qua c'è nessuno che ha domande riguardo a quello che ho letto se non si parla si passa alla fase diciamo anche di approfondimento delle taglie dei nuovi programmi di come funziona questo switch pilot adesso è tutto piuttosto chiaro e va bene così domande commenti ciao max buongiorno sono irene volevo solamente commentare il fatto che la costante di fibonacci e la sequenza di fibonacci si ritrova in natura ovunque e basta semplicemente mettersi lì a contare i petali di una margherita o che ne so quindi è tutto costante di fibonacci solo così per ecco non solamente la chiocciola ecco la chiocciola trovi le proporzioni perfette perché se tu fai appunto la costante la rappresentazione quella appunto di una chiocciola no quindi aumentando la sequenza però in realtà quei numeri della sequenza li trovi in natura su tutto cioè su tutto ma anche su come siamo fatti noi cioè qualsiasi proporzione tra ad esempio le nostre falangi delle dita qualsiasi cosa è costante di fibonacci e ognuno può fare le sue prove si può proprio misurare ecco quindi è proprio una cosa empiricamente mi ricordo di aver detto qualcosa riguardo ti ringrazio per la precisazione bene allora dunque cristina aveva da fare una domanda prego cristina sì niente ti chiedevo come funziona questo per capire meglio questo switch pilot questa valorizzazione del metallo e anche se avevo già sentito la spiegazione ma insomma questa razio e il rapporto fra oro e argento non non è ben chiara poi come si si riflette sull'investimento ecco grazie prego ripetuta juvent no come dicevano i latini anche latini avevano capito molte cose bene no latini che poi boh chissà che romani ci hanno detto che sono i romani no ecco bufo questa cosa ogni volta che pensa anche all'impero romano poi sto facendo le ulteriori ricerche sul culto di roma no ne ho parlato anche del discorso vi invito a partecipare anche il prossimo lunedì perché adesso facciamo una serie dedicata alla creazione del cristianesimo appunto del vaticano e poi parleremo della grande madre di cibele e quindi con grande soddisfazione di duilio credo e anche tutti noi contingendo da quello che ha scritto franco collins ecco e quindi quando una volta che vengono fuori queste cose sono sempre curioso anch'io di approfondirle allora diciamo questo che diciamo questo io vi ho intanto postato delle foto no se potete andarla a vedere soprattutto per chi proprio non conosce niente io sono cose che abbastanza riservate quindi io vi metto quello che vi posso mettere come vedete c'è la foto che ho chiamato numero uno in cui c'è il famoso numero 77,36 che è proprio rapporto la razza che c'è oggi in questo momento e poi cambia cambia ora per ora direi quasi minuto per minuto può cambiare tra ore argento cioè ci vogliono 77,36 grammi di argento per comprarne uno d'oro questo mi sembra una cosa abbastanza semplice da capire e sul sito di Avesta uno che poi accede apre il conto eccetera come vedete c'è e sulla sinistra il calcolatore switch pilot attraverso il quale può fare una proiezione no anche di quella che diceva cristina della possibile grammatura che si genera a fronte di un certo deposito sul conto e sulla destra c'è proprio la tabella che proprio tabella storica no che ci dice tutto il trend anche questo come vedete molto importante da capire e studiarci un po' nella figura invece due vi faccio vedere quella che è proprio la pagina che si apre nel momento in cui voi volete passare dalla pagina praticamente uno passata da due vedete questa cosa in cui in alto sulla sinistra vedete l'oro sulla destra c'è la grammatura sotto c'è il solito rapporto e poi c'è un primo punto nel quale si individua il switch pilot da oro a argento cioè il valore che viene 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 dato in quel momento no come rapporto che come vedete 77.3 ed è equivalente a quello che vediamo nel riquadro di sopra e poi c'è il punto 2 che c'è da argento ad oro diciamo così che individua al minimo ecco una volta che poi uno calcola può fare cliccare sul bottone calcola il software ti dà una proiezione col guadagno della grammatura il guadagno della grammatura avviene quando il doppio ciclo questi due punti 1 e 2 si chiudono avvengono cioè nel momento in cui questo rapporto mettiamo il caso che noi abbiamo messo 50.000 euro abbiamo comprato 50.000 euro per fare cifra tonda sul nostro conto e abbiamo abbiamo attivato il switch pilot questa grammatura massimo 77.31 minimo 69.6 va bene nel momento in cui il questo rapporto arriva o supera il 77.3 il switch pilot quindi il primo punto si attiva quindi viene venduto l'oro e comprato argento va bene viene tutto si ferma lì poi non succede nulla passa un certo periodo di tempo che ovviamente può variare è chiaro no può essere tre mesi può essere anche un anno quindi dobbiamo stare molto tranquilli in questa cosa e pazienti perché questo non dipende da noi non dipende nemmeno dal software dipende da trend di macroeconomia no? come si dice nel momento in cui però l'argento si apprezza e abbiamo visto che potenzialmente ce n'è molta disposizione in natura no? Da un lato quando un prodotto è disponibile il prezzo o rimane stabile o potrebbe tendere a calare ma in questo caso raramente può succedere un'evenienza di questo tipo perché come si è detto si è visto ve l'ho letto le miniere e il business sull'argento è molto inferiore rispetto a quello dell'oro quindi rimarrà probabilmente stabile però nel momento in cui l'oro dovesse volare no? dovesse riprendere a volare come sta facendo come ha fatto ultimamente come farà in futuro perché l'unica vera commodity vera della storia perché l'oro è oro e rimarrà sempre oro ricordiamoci questo perché la moneta dell'elite ha un valore spirituale energetico che noi non possiamo percepire noi l'apprezziamo soltanto dal punto di vista della bellezza ma non possiamo capirne il valore intrinseco che questo metallo ha per l'elite perché ricordiamoci che è considerato come ora questa qui è una cosa che vi dico io in parte Jordan Maxwell l'ha detto e l'ha fatto capire nei suoi interventi e anche O'Collins lo sanno bene questa cosa ma è considerato un dono di Dio e qui si ritorna alla Deità Solare quindi è come se fosse un dono del Sole che guarda quasi ha le stesse frequenze gli stessi colori sulla Terra va estratto non è che si trova giro ci va a fare un certo lavoro ma dal punto di vista simbolico c'è un dono fatto dal Sole che viene chiamato oro e un dono che viene fatto dalla Dea Luna con l'argento infatti come vedete in natura anche quando vedete un quadro antico in cui si rappresenta il Sole e la Luna hanno la stessa dimensione curiosamente non vedrete mai un Sole più grande e una Luna più piccola quindi anche questa cosa curiosa è abbastanza strano dovrebbe essere sempre un Sole grande e una Luna proprio piccolina 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 perché certe proporzioni dovrebbero i pittori antichi dovevano saperle bisogna chiederci come mai invece li fanno hanno la stessa valenza bene allora detto questo cosa succede nel momento in cui ritorniamo a quello che si diceva questo rapporto raggiunge il 69,6 o supera questo limite va bene allora si rivende l'argento e si compra oro a quel punto per un fenomeno ben conosciuto diciamo per gli operatori del settore si crea un'estra grammatura che varia da tutta una serie di ragioni che ovviamente sono il segreto del software perché quando uno mette appunto un brevetto e un software per certi aspetti può essere anche sotto brevetto uno non dice tutto 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 tutti segreti anche io non l'ho fatto nel brevetto che ho depositato in america e che ho ottenuto in america ho detto quelle cose che potevo dire ecco questa è una cosa ben conosciuta all'interno del settore quindi uno dice un brevetto si studia il brevetto e poi dopo magari si copia si fa uguale sì addio se chi ha proposto il brevetto è uno sveglio non ti dirà mai tutto il cento per cento della cosa te riproduci la formula e fai un grande pasticcio e non arrivi da nessuna parte ecco cristina in sintesi è così che funziona però un po alcune cose sono segrete e se le tengono giustamente per loro stessi e un po alcune cose appunto non ve le posso dire ve le dico personalmente ma non ve le posso dire chiaro e quindi quello che posso dire è questo che ho già detto tantissimo perché ci ascolta so con grande piacere che ci ascolta anche la concorrenza ora con questa operazione qui che ha fatto posso dirvi è Auvesta dal punto di vista del marketing l'ho detto tante volte e non ho nessun timore a ripetere non è un'azienda perfetta io forse come esperto noto di più certe cose ogni tanto ci devo battagliare va bene però per quello che riguarda la serietà l'integrità e la sicurezza del nostro depo del nostro oro non c'è ombra di dubbio ci metto la mano sul fuoco ci metto la faccia quindi ho avuto tanti riscontri e non ci sono problemi quindi noi dobbiamo essere assolutamente certi che un po' più un po' meno quello che stanno introducendo con questo switch pilot ha una sua validità e prima o dopo genererà questa extra granatura qual è la cosa importante dal punto di vista del posizionamento? Che nessuno ce l'ha questa cosa qui quindi Auvesta è forse 10-15 anni avanti a tutta la concorrenza poi in Italia concorrenza non ce n'è perché? Perché per fare un confronto bisogna confrontare mele con mele e anche all'interno delle mele come sapete ci sono tante varietà bene? E pere con pere o pere con pere non si può avere una pera con una mela cioè entrambi sono frutti ma il lavoro con tutto rispetto che fanno gli operatori normali che ti vendono i lingottini d'oro e poi te li metti in casa te li mette la cassetta di sicurezza te li seppellisci in giardino fai quello che vuoi non è il lavoro che ti fa Auvesta che ti può monetizzare immediatamente quello di cui ti hai bisogno sono lo stesso mondo ma dal punto di vista operativo sono due cose completamente diverse è chiaro no? Senza di stare a parlare del discorso che poi quando compri in Italia devi mandare la comunicazione all'ufficio lì della finanza una volta e quell'altra senza parlare della sicurezza effettiva di stoccare in Italia che probabilmente non hanno nemmeno le licenze per farlo io uso sempre il condizionale perché non ho ancora la certezza e anche se l'avessi lo utilizzerei lo stesso per riguardo e per rispetto e tu ti metti insieme tutte queste cose qui l'operazione che si fa in Germania è l'unica operazione possibile dal punto di vista della sicurezza dell'elasticità sotto tutti i punti di vista quindi un altro grande vantaggio è che praticamente non si paga più deposito con questa extra grammatura che io documento in un report riservato che mando soltanto a chi me le richiede perché contiene tutte quelle informazioni che qui in diretta non posso dare però a chi me lo richiede le romano e si crea una grammatura importante che copre sicuramente i costi di deposito e devo dirvi che attendo i primi risultati perché è sempre bene essere cauti in queste cose e voglio ragionare sui numeri ma se funziona come dicono io appena questi dati sono a disposizione prevedo, spero che lo siano entro la fine dell'anno sapete che faccio il prossimo anno? devo sentire il mio avvocato e vedere come lo posso fare io garantisco che se eventualmente l'extra grammatura non adesso, sto parlando di una possibilità che potrebbe avvenire per il prossimo anno io garantisco che eventualmente se nell'eventualità in cui questa extra grammatura che si genera non copre i costi di deposito io pago per la differenza sapete che se io dico che pago per la differenza pago per la differenza così come ho promesso che io restituisco tutti i bonus che ho rilasciato fino adesso sono diversi potete andare a chiedere io l'ho pagato in contanti non in servizi, in consulenza o qualsiasi di questo tipo perché in linea di massima sono bonus che si danno per la consulenza nessuno ve li darà mai il contatto non c'è nessuno che restituisce soldi in contatto solo il dottor Max perché a me mi piace sempre fare delle cose diverse da tutta quella che fanno gli altri ovviamente a Ovesta o qualsiasi altra azienda non vi può restituire soldi questo è un fatto anche di contabilità e vi restituisce il premio ci arriviamo Cristina, arriviamo lì in grammatura d'oro in relazione al contratto che fate se aprite una L1 o 12 avete un 3% di sconto sul prezzo medio del mercato non sul fixing di Londra sono due parametri diversi l'abbiamo affrontato tante volte questo aspetto il 6% sul se aprite una XL quindi ovviamente per chi insomma ci crede per chi vuole fare soldi da banca c'è un certo quantitativo c'è delle azioni che vuol vendere eccetera quindi si parla oltre il 34 mila euro il software di Ovesta suggerisce già la XL e comprate meglio poi arrivate al 50 va bene arrivate al 50 e recuperate tutti i 2400 di apertura premio i 2400 di apertura premio li potete recuperare anche in diverse fasi non siete obbligati a comprare 50 mila subito per esempio aprite una XL con l'idea di comprare 50 o oltre 34 suggerisco di farlo investendo 12 quindi più poi il premio si va a 14.800 e cominciate subito a recuperare i primi 600 i primi 600 di questi 2400 poi nel momento in cui è arrivato a 27 lo potete fare in un'operazione unica lo potete fare in acquisti scaglionati come volete perché poi dopo funzionano anche come piano di acquisto io questo aspetto non l'ho volutamente non ne ho volutamente parlato all'inizio soprattutto con i nuovi clienti per non fare confusione ma dopo una volta che avete aperto il vostro conto vi diventa un piano di accumulo su quale voi potete investire quello che volete in qualsiasi momento potete comprare con Ovesta in qualsiasi momento potete vendere che è solo un minimo che adesso mi sembra sia di 50 euro arrivate a 27 e cominciate a recuperare gli altri 600 e siete già a 1.2 arrivate a 50 e recuperate in 24 mesi tutto in 30 mesi scusate tutto l'importo a 80 euro al mese no? capite? funziona in questa maniera se un cliente vecchio questo è il cliente nuovo o comunque anche il cliente vecchio che vuole investire nuovi denari quando ci deve essere un nuovo acquisto di metallo a fronte dell'apertura della nuova taglia non si può utilizzare il metallo investito nel Royal Class va bene? il cliente vecchio invece che vuole fare l'upgrade può farlo le condizioni le condizioni sono identiche non ha magari per lì ha già fatto l'investimento e dice ma ce l'ho di 50.000 ma neanche 27 non ce l'ho vabbè a questo punto si deve valutare la fattibilità e la convenienza e si deve ragionare in questo termine l'ho spiegato nel report dice guarda se te compri soltanto la XL costa 2.800 400 di metallo 2.400 l'apertura a conto questi non li recuperi perché non non compri nuovo metallo allora a quel punto ci devi chiedere ma è conveniente fare questa operazione o meno certo che è conveniente perché hai già 50.000 in deposito su Royal Class anche fosse 30 vabbè lo stesso li prendi li trasferisci non costa niente sul nuovo XL o L quello che vuoi e utilizzi questi per attivare il Switch Pilot quindi crei comunque un'extra grammatura tale per cui ti recuperi abbondantemente i 2.400 che apparentemente anticipi ma le recuperi lo stesso mi sono spiegato Cristina per me è chiaro adesso sì ma che conta che sono le prime volte che mi avvicino a questo a questo tipo di investimento per cui volevo capire bene prima di investire le cose che non mi erano chiare se è stato chiaro sì sì esauriente grazie Cristina io anche io stesso ho impiegato un po' di tempo per capire tutto perché un discorso è averlo capito un discorso è averlo digerito le cose capiscono e poi se lo indirigisci bene 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 dopo una settimana magari te le scogli ricordo che per attivare il switch pilot occorre avere in deposito aver acquistato un valore di 20.000 euro di oro attenzione uno può comprare anche l'argento però con mio grande dispiacere Felice ne sa qualcosa con mio grande dispiacere ho scoperto cammin facendo che lo spread è doppio e io non me l'avano detto ecco quindi io faccio mea colpa però io sono un buonafede perché non sapevo assolutamente niente di questa cosa perché dal punto di vista del trend non sarebbe male comprare argento però vi do una notizia la notizia è questa anche comprando oro e devo verificarla con Walter Marco ma sono sicuro quasi al 99% uno compra oro va bene con lo spread del 12% che è un ottimo spread io ve lo dico un ottimo spread e compra quest'oro un certo quantitativo sicuramente più di 40 o 40 e lo mette sul conto tutto oro ora attraverso il sistema c'è la possibilità di vendere 20.000 di ore e comprare argento senza penalità quindi in realtà non c'è tutta questa necessità di comprare argento perché in qualsiasi momento quando si è aperto il conto in oro si può venderne una parte e comprare argento così che si ha la doppia possibilità di regolare il switch pilot in oro o se si vuole in argento non sono un esperto di software ma a logica posso assicurarvi che non c'è nemmeno tutto questo bisogno di fare questa cosa qui perché il sistema funziona sia in una maniera che nell'altra e quindi tutto sommato è meglio comprare oro per il trend che vi dicevo perché in due o tre anni potrebbe superare anche la soglia dei 100.000 dollari al al chilo sapete perché 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 vi dico questa cosa semplice la scorso anno la banca centrale tanzaniana ha deciso di anche questa senza fare troppo puzzo però è una notizia che è uscita ha iniziato a comprare oro come sta cingendosi fare per esempio quella che abbiamo visto nella Nigeria e qui l'oro non c'è io posso andare a Gaeta mi sono riproposto di andarci non so addirittura se ci vado la prossima settimana perché c'è sempre ora dovevo chiudere questa promozione parliamo anche di quello in breve ma sicuramente in agosto ci andrò Gaeta è dove c'è il mercatino dove si va a comprare l'oro dove si compra bene l'oro che in effetti si compra bene ma non c'è questo tuttora di struzione non c'è e la scorsa settimana sono stato contattato da un gruppo un dico il nome tanto è inutile un broker che dice guarda io ho dei clienti che vogliono quantitativi d'oro mi chiedono i quantitativi che non esistono qua non esistono i quantitativi che hanno oltre 100 kg non c'è nessuno c'è le banche centrali non esistono cioè l'oro è un metallo molto limitato in natura questo automaticamente farà lievitare il prezzo con tutta questa richiesta che c'è non devi essere nessun genio per capire una cosa così quindi ho dei riscontri pratici io vado se trovo ho la fortuna vado a questo mercatino mi sono già attivato con queste persone che conosco volevo comprare un po' d'oro ma se mi trovano 100-200 grammi d'oro è un miracolo forse me ne compro 5-10 più di questo non posso comprare capite qual è il problema non c'è e non c'è da nessuna parte non è che vi dico perché grosso modo io sto cercando di portare un paio di chili d'oro con questi ragazzi in Italia dicono abbiamo già firmato tutti i contratti tutto a posto eccetera poi per un problema burocratico diciamo così non dipendente da noi la Tanzania è stata iscritta nella lista nera che poi non è nemmeno la lista nera ma sarebbe la lista grigia sarebbe una di quelle nazioni attenzionate dalla comunità europea perché non si piega a certe cose che poi fanno così è una sorta di di censura no? che mettono sul libro nero perché te non vuoi far questo non vuoi far quest'altro di qui di là di su questo non è certamente la maniera di aiutare l'Africa però come vedete da un lato fanno finta di mandarci un sacco di soldi e poi ci mandano medicine scadute come è sempre successo ci fanno esperimenti che non possono fare in America bene io le so le cose queste le do cose per certo le metto al mio medico persona rispettabilissima va bene e dall'altro però quando si deve magari dare un aiuto concreto facilitando certe cose pur rispettando evidentemente certi requisiti di base anche e soprattutto etici si scrive nel libro nero e non si fa ho scoperto poi che non è assolutamente stato non mi sembra sia assolutamente stata scritta sul libro nero sul libro nero c'è la Corea del Nord e l'Iran ufficialmente sul libro nero tutta una serie di paesi sono sul libro grigio e sono si chiamano paesi attenzionati ma non c'è boicottaggio infatti qui il porto di Dare Zalam al 100% non c'è nessun tipo di boicottaggio qualsiasi tipo di prodotto si vuole si può portare può esportare quindi purtroppo siamo tutti anche soggetti a questa disinformazione comunque per ritornare a noi sono in contatto con questi ragazzi e cercherò perché per comprare oro ci vuole una licenza che io non ho l'oro lo puoi comprare se lo compri te come persona attraverso la licenza di un operatore ma poi non lo puoi vendere perché se no è considerato che fai commercio e io non lo posso vendere quindi lo compro compro per me e basta però voglio fare anche questa esperienza all'interno poi visiterò la miniera di questi ragazzi loro usano diverse tecnologie vedrò il posto questo quindi fa parte che tutto questo è già un piccolo investimento che faccio per mia formazione professionale diciamo così siamo in Africa devo cominciare a muovermi un pochino più purtroppo io vivo diciamo sapete no vicino al porto di Arendt Salam quindi sulla costa devo andare a Geita che è vicino al lago Vittoria in Pullman ci vuole 17 ore io la prima volta ci voglio andare in Pullman così mi faccio una bella cita vedo anche un po' la tanzania all'interno che non ci sono mai andato se no poi altrimenti bisogna andarci in aereo e sono comunque costi che costa dai 3 a 400 dollari un po' andare intorno mi sembra e costa guardi come andare a Dubai potete immaginare e costa meno andare a Dubai che andare sul lago Vittoria va beh ecco quindi quindi secondo me l'unico investimento possibile anche in questo momento qui sarà sempre di più è l'oro è l'oro non c'è nient'altro non c'è niente investimento cosa compra uno oggi dove li mette soldi se ce li hai in banca a disposizione facciamo l'esempio che uno abbia soldi in banca lì a disposizione o li tiene lì e per certo perde il 10 per cento all'anno di potere di acquisto a causa dell'inflazione o se no che cosa compra ditemi avete qualche idea in più cosa comprereste voi anziché comprare oro cioè qualcosa in cui uno può investire con diciamo con un minimo di un minimo di di così di sicurezza no allora adesso vi annuncio un'altra cosa come sapete ho iniziato il rapporto di collaborazione con un'azienda che si chiama Helior questo è stato necessario io adesso collaboro facciamo un recap anche di questa cosa con quattro aziende diverse a questa per gli investimenti medio grossi la Helior per i piani di accumulo poi a tu per tu vi spiego eventualmente come funziona e perché ho fatto questa scelta la azeta metalli per tutti coloro che vogliono andare lì al banco metalli non c'è problema compro un pezzettino un po' d'oro e se lo portano a casa se lo mettono una cassetta di sicurezza qualsiasi cosa di questo tipo cose semplici va bene e poi credo di aver trovato soluzioni flessibili anche per tutti coloro che hanno già investito in in oro quindi hanno comunque delle monetine delle lingottine eccetera e li vogliono mettere al sicuro al sicuro io intendo dire per me prenderli e portarli in Svizzera punto l'oro è al sicuro soltanto se si prende e si porta in Svizzera sfido chiunque degli esperti a dimostrarmi che questo non è vero se c'è qualche esperto che magari indifferita ascolta questa notizia ce ne sono tanti di quelli che vi vendono l'oro così vi vendono l'oro e poi vi dicono di sepperlirlo nel giardino di casa io non ho problemi aprire una conversazione con l'oro o un dibattito in cui si dibattono queste cose poi mi devono spiegare dove sono le licenze per stoccare in cavo in Italia perché io non le ho trovate quindi l'unica soluzione è che si prende l'oro e si portano in Svizzera io ho diversi già contatti attivati tutti coloro che hanno un certo quantitativo d'oro si parla sempre un certo quantitativo d'oro si possono mettere una cassetta di sicurezza con molta probabilità a Mendrisio lì subito dopo Chiasso chi abita al nord a Milano non diceva niente arrivarci e quindi rimane una cassetta di sicurezza comunque al sicuro oppure per chi ha un certo quantitativo e può fare le cose in una certa maniera ancora più sicura si può fare uno stoccaggio della Svizzera tedesca che comunque si anche lì fanno stoccaggio in cassetta di sicurezza a prezzi più che decenti oppure stoccaggio in cavo ora ci sono due tipi abbiamo capito che sostanzialmente ci sono due tipi di cavo quello che trovate presso questa azienda qui che ve la vuole vi faccio interrompere un attimo solo per salutarvi scusate perché sono insieme a delle persone vi devo lasciare nessun problema venite buon fine settimana anche a voi ciao ciao ecco che si chiama ve lo posso anche dire Swiss Gold Safe va bene che loro hanno sia cassette di sicurezza che cassette in deposito comunque di alta sicurezza è garantito che ci sto lavorando potrebbero anche essere configurati come FF o non lo so ancora oppure andiamo al livello di sicurezza massima che è quello che garantisce a ovesta tramite Brinks perché io ve l'ho spiegato negli ultimi interventi che ho fatto vi ho spiegato anche negli ultimi due vi ho spiegato che Brinks sono sicuramente sotto FF che l'ho profondito ve lo do al 99,9% ricordiamoci che è molto difficile trovare tutta la documentazione che prova al 100% questa cosa perché è documentazione segreta e per quale ragione dovrebbero pubblicare sono accordi privati che hanno fatto con gli stati nazionali ma figuratevi se li pubblicano magari li pubblicheranno può darsi che ci siano io non li ho trovati ma ho trovato una documentazione più che sufficiente che conferma quello che ho sempre detto io riguarda Auvesta sui famosi AFF ne posso parlare direttamente non vi posso dire troppo in diretta perché perché il dottor Olse direttore presidente di Auvesta ci ha pregato di non parlarne in diretta ma di parlarne soltanto di persona e questo conferma che è vero perché se no non mi avrebbe detto guarda non ne puoi parlare e basta perché non è vero invece non ci ha detto questo perché lui la storia la sa bene vedete quanto è importante la ricerca e lo studio l'approfondimento in questa cosa ora non è che io voglio darmi delle aree chi mi conosce sa che io sono un toscanaccio e rimarrò sempre un toscanaccio però quando dovete comprare oro cercate di capire anche il background di quello che ve lo vende e l'integrità e quello che ha fatto nella vita se ha avuto un'esperienza all'estero se sa scrivere in italiano se sa parlare in italiano se ha una conoscenza di base un pochino ampia che gli permette anche di individuare certi trend e non ti ripete bla 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 come fanno la maggior parte con tutto il rispetto dei venditori tutti eh ti dicono le cose positive non ti dicono mai le fregature poi vai a leggere il contratto e trovi una fregatura regolata sempre così mi ricordo quando mi ricordo quando venne fuori il folletto in Italia chi ha la mia età se lo ricorda ci avevano questi venditori che andavano in giro a vendere il folletto e a quel punto all'epoca e questi chiamano gli aspiratori non esistevano e venne fuori il folletto che in effetti era un prodotto anche molto buono devo dire che te lo vendevano te lo lasciavano te lo vendevano e poi ti faceva un finanziamento ti veniva a costare un sacco di soldi alla fin fine però il prodotto in sé devo ammettere era buono ma quando parlavi o sentivi il venditore mi ricordo quando vennero io ero ancora piccolino vennero parlando con la mia mamma venditori bravissimi e poi va a leggere il contratto trovi che c'erano degli interessi un periodo esagerati per pagare questo prodotto che non aveva detto all'inizio quindi il prodotto era buono però te l'aveva proposto in maniera furba come fanno sempre i venditori che dovete distinguere tra il venditore da chi fa una cosa a un livello un attimino più su poi decidete chi ha più credibilità e io battaglio anche ieri mi sono super incazzato arriviamo adesso a parlare della promozione concludo vi ho postato la promozione che ce l'ho qui davanti a me la promozione scade domani la promozione di Avesta per loro scade domani però hanno proposto un 2% il 2% c'è stato due giorni il 26-27 di giugno e basta dico ma scusa ma se non fai la promozione del 2% almeno nell'ultimo weekend ho dei clienti in attesa per comprare al 2% adesso scontentiamo i clienti non frega niente ma non è Avesta sono tutte le aziende così anzi in un certo senso parlando con me si sono scusati almeno è maga mi dispiace questa cosa così e guarda che ho 3 o 4 clienti che poi erano potenzialmente anche di più in attesa di comprare per il 2% ora che facciamo li vendiamo all'1.1 quindi per fortuna c'è il mio bonus il bonus di Dr. Max che risolve il problema ma io sto bonus l'ho messo anche per parare questa cosa qui ecco questo è un marketing non è un marketing una promozione ma non è marketing strategico perché te non puoi mi chiedo ma se la Germania fosse arrivata al finale oggi la promozione sarebbe stata all'1.1 no oggi domani la promozione sarebbe stata al 2% esattamente come lo è stata due settimane fa quando la Germania ha vinto capite ecco ma questo non è perché lo fanno perché a Ovesta non è azienda serie ma purtroppo di marketing capisce poco come capiscono poco quasi tutte le aziende europee e vi faccio un esempio siamo in America un altro mondo sotto questo punto di vista ci sono metti caso che devi comprare un qualcosa per la casa qualsiasi cosa vuoi per la casa te vai a un depo sono dei grandi supermercati in cui trovi tutto quello che ti puoi immaginare per la casa se non è a un depo probabilmente è al concorrente poi c'è un altro concorrente che fa un lavoro simile però lì a Di Massimo vai a un depo c'è la tua cartina no e io compravo sempre tutto lì però compri a un certo punto compri un prodotto dei prodotti che non arrivi a casa e ti accorgi che non sono quelli che hai aperto già hai aperto già la scattola o il briste quello che è cosa fai? prendi lo scontrino ritorni a un depo un depo ti restituisce soldi se vuoi soldi o ti dà un coupon per comprare del valore senza nessuna penalità non fanno nemmeno ti chiedono non ti chiedono neanche perché lo riporti ecco quello è marketing strategico perché l'obiettivo finale è quello di accontentare il cliente se te invece gli fai tante storie come si fa in Italia eh no non si può più riprendere dov'è lo scontrino certo il scontrino ci vuole perché potreste averlo comprato in un'altra parte va bene questo è chiaro poi dico lo scontrino accontenti il cliente il cliente ti ritorna e ti compra di più poi questa cosa qui non si capisce in Europa forse forse non so in Inghilterra forse ma non credo in Italia forse nelle catene di adesso le catene europee diciamo detenute appunto da americani o persone che conoscono un pochino meglio questa cosa che evochiamo in maniera molto così è marketing strategico che ha come finalità quella di soddisfare il cliente prima di tutto il cliente al 100% non l'azienda o il partner l'agente in questo caso io il cliente e non si intende questa cosa a nessun livello quindi è un codice che ancora non esiste e guardate che quando io dicevo queste cose qui quando lavoravo in agenzia 25 anni fa 30 anni fa è la stessa cosa non è cambiato nulla non è cambiato niente a livello di aziende nulla cultura aziendale zero e si deve fare come si fa a fare competizioni con questa mentalità con i cinesi e i prodotti cinesi o quelli coreani o anche tanti di quelli americani non c'è verso ecco perché le cose non vanno bene capite ho fatto un esempio ma io vi potrei fare tanti esempi in America tanti esempi tanti esempi in cui almeno vedi formalmente la buona volontà di darti quello che richiedi non è sempre così non è sempre così in tutte le aziende poi fanno i furbi anche loro ci sono tante cose che non vanno bene però in linea di principio soprattutto quando c'è un rapporto diretto o se che si è creato nel corso degli anni diciamo cercano di fare ma cose logiche niente di così speciali abbiamo un rapporto c'è un problema se ne discute si risolve ecco questa mentalità non c'è non c'è la mia promozione sarebbe scaduta ieri ma è chiaro che se c'è qualcuno tra oggi e domani che ne vuole approfittare va bene lo stesso soltanto ci sono delle procedure da fare e però lo facciamo un quarto d'ora a venti minuti si risolve tutto e la promozione poi di augusta scade io rifarò qualche cosa lo posso annunciare la prima settimana di agosto per i primi dieci giorni dopodiché si chiude e quindi magari chi non ce la fa adesso uscirò con un coupon di 100 per la L e di 200 per la XL perché anche questa operazione qui è tutta sulle mie spalle non la condivido mica con nessuno bene domande in chiusura credo che anche oggi insomma si sia fatto un certo tipo di intervento come si dice dalle nostre parti chi ha orecchi da intendere intenda chi non vuole intendere va bene lo stesso allora ricorda l'appuntamento in quelli di sabato in cui ci sarà la seconda puntata dedicata al punto di Roma si potrebbe anche chiamare così che è una cosa molto diversa da quello che purtroppo si può pensare secondo Franco Collins questo è quello che dice lui però sono cose sicuramente interessanti da ascoltare quelle dice nessuno in Italia quantomeno poi l'appuntamento del mercoledì sì mercoledì prossimo ci sarà sicuramente l'appuntamento con destinazione Tanzania tecnicamente ci sarebbe ancora volendo un posticino per qualcuno che vuole venire in agosto se qualcuno vuole venire in agosto in effetti mi dovrebbe già venire qualcuno ma non ha ancora confermato e questo naturalmente mi crea un attimo di disagio no? perché io adesso magari potrei avere qualcuno che è interessato e queste attese mi danno un pochino fastidio comunque adesso ora vediamo la settimana di poi il settembre verrà Marco è benissimo quindi poi ottobre novembre dicembre con ovviamente con le feste insomma da vedere si può sicuramente organizzare qualcosa ecco annuncio una cosa di cui mi sono sempre ultimamente purtroppo dimenticato c'è un'amica una signora e quindi una donna che vorrebbe sta cercando un'amica con la quale possa venire qua a fare il piano B lei vorrebbe prendere anche la residenza però questa eventuale amica non ha l'obbligo di prendere la residenza se non lo vuole prendere può venire a fare la vacanza investigativa di una settimana se c'è qualcuno che è interessato io non c'entro niente vi metto in contatto tra voi tra queste due persone e decidendo come dovete poi decidere ovviamente quando venite che c'è da poi definire il volo ecc ho deciso che per quello che riguarda i documenti tutte queste cose qui di qualsiasi ordine tipo la consulenza per chi mi segue la prima consulenza diciamo così è gratis eh per chi ha già fatto ovest chi ha già fatto ovest c'ha tutta una serie diciamo così di privilegi no chiamiamole così di bonus per cui le mie fee non sono al 100% ma sono al 50% chi non ha fatto ovest va bene lo stesso le fee sono pubblicate e rimangono queste sto andando avanti col discorso fondazione con grande difficoltà però c'è troppa burocrazia spero comunque mi faccio illusioni però spero sicuramente alla fine dell'anno devo aver risolto qualche cosa insomma essere in grado di procedere perché sennò diventa veramente una cosa ridicola e non se ne farà più niente e comunque dobbiamo essere sempre positivi in quello che si fa perché a pensare negativo non si crea niente chi si lamenta anche se ha mille ragioni per farlo non crea niente di buono né per se stesso né per la famiglia né per nessuno pur nella nella critica anche proprio no dura uno poi deve essere una persona propositiva sono sempre le tre P che contano che sono quelle del della 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 positività della diciamo della positività della della produttività poi c'è un'altra picca adesso me la ricordo che sono tutte pubblicate sul mio sito dell'azione dell'azione proattività proattività non me la ricordo però avete capito tanto quello che posso dire posso sempre ricordare tutto anche le cose mi scordo tutto pubblicato sul sito a mente aperta punto net dove ricordo vi potete leggere gratuitamente anche un lavoro credo molto concreto sulla storia dell'oro che è propedeutico per tutti coloro che magari non ne sanno granché vogliono capire i criteri principali per i quali che dovremo seguire per comprare e a disposizione tutto gratuitamente per chi mi segue domande in chiusura o commenti se no chiudiamo qua oggi benissimo ok allora ringrazio tutti e vi auguro un buon fine settimana alla prossima ciao grazie grazie ciao grazie ciao arrivederci a tutti ciao